gentili telespettatori buona giornata matteo salvini il capo della lega viene assolto dall'accusa di vilipendio vilipendio alla magistratura perché che cosa aveva detto della magistratura il tribunale di torino intanto lo assolve per la particolare tenuità del fatto e matteo salvini poi torna all'attacco la giustizia italiana va profondamente riformata ma su questo su questo lo vedremo lo vedremo dopo il perché è importante questa cosa che dice salvini il leader della lega quindi assolto dal tribunale di torino per lo vedeva imputato per vilipendio all'ordine giudiziario vilipendio praticamente offese insulti all'ordine giudiziario era il 14 febbraio del 2016 un congresso regionale della lega al palazzetto dello sport di collegno vicino torino salvini una frase dice difenderò qualunque leghista indagato da quella schifezza che si chiama magistratura italiana che è un cancro da estirpare il pubblico ministero emilio gatti aveva chiesto per il leader della lega una multa da 3.000 euro oggi in aula lo stesso pm ha osservato che le frasi rivolte da salvini al pubblico presente al congresso formato da circa un migliaio di persone hanno chiaramente natura oltraggiosa una cosa è la critica un'altra gli accostamenti volgari e ripugnanti gatti anche aggiunto che il leader della lega ha definito i magistrati strozzi scusate la politica italiana mi fa troppo ridere cerco di essere serio ma a volte non ce la faccio e non non ce la faccio a volte e lazzaroni che rompe lazzaroni che rompono le palle alla lega e la magistratura italiana una schifezza il pubblico ministero inoltre ha fatto notare che come il pubblico accoglie gli insulti del capo alla magistratura con vere e proprie ovazioni da stadio no vedete tipo la ola quelle cose lì no le parole di salvini erano state successivamente riprese dal tg1 e ciò secondo gatti è una prova che il discorso è da ritenersi pubblico e beh ci mancherebbe se parli a mille persone discorso pubblico o sbaglio ci sono video telefonini telecamere video su youtube e mi sembra proprio che sia pubblico non è che ci non è che ci vuole un genio per capire che se parli davanti a mille persone se una persona pubblica davanti parla davanti a un pubblico è un discorso da ritenersi pubblico beh insomma grande riflessione di diverso avviso salvini che intervenuto in aula lo scorso 25 gennaio aveva sto ancora ridendo aveva espresso massima fiducia nella magistratura nella sua libertà di giudizio evidenziando di non aver attaccato un giudice o un altro ma il sistema precisando di aver fatto le affermazioni che gli vengono contestate perché c'era qualcuno che dall'interno politicamente utilizzava alcune inchieste della magistratura per attaccare la lega claudia etcher che è uno dei suoi avvocati c'è anche la buongiorno claudia etcher dice le parole pronunciate da salvini sono prive di carica offensiva usa quei termini perché è quel genere di linguaggio che i leghisti si aspettano non voleva offendere i magistrati alla magistratura no l'avvocato aveva spiegato che il linguaggio della lega e dei partiti sorti dalla cosiddetta società civile hanno cambiato il paradigma del linguaggio quello del leader politico oggi è chiaro diretto utilizza frasi brevi e parole comune anche quelle di tono basso salvini non ha fatto altro che riprendere stilemi del linguaggio tipico della lega quello in cui i militanti si riconoscono un lessico colorato ed espressivo non offensivo beh allora l'avvocato o l'avvocatessa si dice molto soddisfatta per la soluzione spiegando che questa è una sentenza che ripristina lo stato di diritto caro avvocato ma quale ripristina lo stato di diritto gli è andata bene a salvini che ha trovato un giudice che si è svegliato bene la mattina non era no perché insomma le offese ci sono state il reato è contemplato nell'ordinamento giuridico il vilipendio alla magistratura c'è c'è quindi diciamo che ha trovato il giudice in buona quel giorno lì quindi molto soddisfatta che ripristina lo stato di diritto ma quale stato di diritto gli insulti ci sono ci sono stati poi ma no lui parlava in maniera colorita a un pubblico che si aspetta la parolaccia ma dai su dai non raccontiamoci la storia di babbo natale gli è andata bene questa volta il giudice ha aggiunto ha contestualizzato correttamente le frasi pronunciate da salvini in un consesso assolutamente privato all'interno di una riunione di partito una riunione di partito con mille che ascoltavano e facevano la ola alla faccia della riunione di partito dove alla stampa era inibito l'accesso quindi è una roba in famiglia sono insulti detti in famiglia secondo la ecce il giudice ha evidentemente anche verificato che queste parole decontestualizzate comunque hanno perso la loro carica offensiva anche salvini ha commentato la sua soluzione ci sono contento ringrazio il giudice e l'avvocato scrive il leader della lega su twitter nel post l'ex ministro lancia qualche quella che potrebbe essere una nuova battaglia politica questo lo vediamo in un in un video successivo perché quello che sta dicendo matteo salvini adesso gli si può ritorcere contro e anche in maniera pesante ve lo spiego nel prossimo video che facciamo parlerò proprio di questo per la situazione com'è alcune cose adesso poi ne parliamo nel prossimo video comunque diciamo che questa volta ha trovato un giudice che era in buona che era in buona trovava un altro dice ah sì ci ha offeso te 3000 euro pagami 3000 euro non avrebbe fatto nessuna differenza per salvini 3000 euro in più e 3000 euro in meno è attenzione certo sono sempre 3000 euro però non si sarebbe strappato i capelli per i 3000 euro però sarebbe la sua fedina penale si sarebbe macchiata del vilipendio alla magistratura invece è stato tutto derubricato come espressioni colorite in un ambiente privato in una riunione privata insomma è andata bene ribadiamo dai io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata se volete siamo anche in facebook teleitalia e nell'altro canale di youtube teleitalia seconda rete ci sono anche gli abbonamenti l'abbonamento principalmente un aiuto al canale parliamoci chiaro poi ci sono due abbonamenti uno da un euro che ha come beneficio quello di poter vedere i video ore prima che vengano pubblicati e mentre con l'abbonamento da 3 euro oltre a vedere i video prima si sono anche dei video solo per chi fa questo abbonamento per chi ha tempo di vedere tutti i video magari ce ne fosse un altro e così c'è un altro video più o meno quasi ogni giorno per chi ha chi fa questo abbonamento arrivederci a tutti e buon proseguimento di giornata